Allora questo chiaramente lo vedete è un ponte a luce unica fatto con delle travi prefabbricate e precompresse. Sono quattro travi, sono alte 1,30 m e lunghe praticamente quasi 29 metri. Pesano 48 tonnellate l'una e come magari avete potuto vedere c'è stata una gru di notevole dimensioni a spostare queste travi. Devo dire che l'impressione è sempre nuova perché con questi mezzi si vedono spostate queste travi così grandi come se fossero dei pezzetti di fronte. Il prossimo step è l'impalcato del ponte, verrà messo delle coppelle, dei piani di calcestruzzo per chiudere l'incavo della trave e poi sopra abbiamo fatto una soletta di calcestruzzo in maniera da fare l'imparcato sul quale poi veda fatto alla fine l'asfalto.